La Toscana nel 2023 ha vinto il Green Road Award, l'Oscar della bicicletta, che viene consegnato ogni anno alle vie verdi delle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Nello specifico, la Toscana è stato attribuito per la ciclopedonale Puccini, il collegamento ciclabile nato nel 2011 con il contributo dell'assessore regionale alla mobilità tra Lucca e la Versiglia, attraverso i luoghi, la vita e la produzione musicale del maestro Giacomo Puccini. Un percorso pianeggiante adatto a tutti e ha il valore aggiunto di essere musicato grazie ad una segnaletica dedicata che consente di accedere tramite un QR code ad un accompagnamento musicale durante la pedalata e di ascoltare le sinfonie di Puccini suggerite in alcuni punti selezionati lungo il percorso. Un premio che per l'assessore regionale alla mobilità è un premio ben meritato perché la ciclabile Puccini unisce l'attività sportiva turistica ad un progetto culturale più complesso. Questo riconoscimento va ad aggiungersi agli investimenti che la Regione Toscana Promozione Turistica hanno realizzato per promuovere i percorsi in bicicletta presenti in Toscana. Tra questi c'è l'Atlante del cicloturismo che unisce 20.000 chilometri di percorsi ciclabili al patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico della nostra regione. Questo tipo di offerta turistica che poi è quella che simbolicamente ricorda i cipressi della Val d'Orcia è un po' nell'immaginario collettivo che cos'è la Toscana rende sempre più interessante questo tipo di proposta turistica. Devo dire che il lavoro dell'Atlante è un lavoro davvero di grande condivisione con tutti i territori è riuscito a mettere in risalto quello che era evidente, cioè un lavoro di anni di grande attenzione che aveva soltanto bisogno di un ultimo passaggio che è quello di un coordinamento. Questo è esattamente il ruolo che sta portando avanti l'Agenzia, convinti come siamo in questi ultimi anni in maniera ancora più decisa che il brand comunque riconosciuto è Toscana e Toscana e che sotto quel cappello puoi raccontare le infinite possibilità che la nostra regione presenta ai nostri visitatori. Come vincitrice 2023 spetta alla Toscana ospitare gli eventi conclusivi del Green Road Award. Oltre alla cerimonia di premiazione dei vincitori dell'Oscar della bicicletta in programma al Teatro Boccherini di Lucca, sono in corso tutta una serie di iniziative dedicate al cicloturismo in Toscana. Tra questi è anche un convegno a Torre del Lago Puccini focalizzato sull'economia legata al mondo delle biciclette e al cicloturismo per gli operatori del settore. È un settore che ha smesso di essere un settore di nicchia. Abbiamo fatto una ricerca presentata qualche tempo fa che dice che sono 57 milioni le presenze di cicloturisti nel nostro paese in aumento rispetto al 2019 che era l'anno prima della pandemia e quindi abbiamo colmato il divario che c'è stato nel corso di questi anni per un giro d'affari di oltre 5 miliardi e mezzo. Quindi non è più un settore di nicchia, è un settore importante al quale bisogna prestare attenzione e accompagnarlo in questa crescita che finora è una crescita come abbiamo definito disordinata ma gentile. La bicicletta è un mezzo sempre più scelto sia per gli spostamenti casa lavoro ma anche in ottica di turismo lento che sta trovando un alleato in un altro mezzo di trasporto, il treno. Tanti gli investimenti in questo settore per nuovi treni che hanno spazi riservati per le biciclette e una integrazione sempre maggiore con la rete ferroviaria in modo da garantire una mobilità sempre più intermodale. Vogliamo promuovere i nuovi treni, vogliamo promuovere questo nuovo turismo e il territorio perché poi i treni regionali con la bici ti fanno scoprire il territorio anche quello meno conosciuto ma altrettanto bello. Abbiamo circa 500 stazioni che insistono in prossimità proprio dei 6.000 chilometri del sistema delle ciclovie nazionali. Questo vuol dire che anche da un punto di vista proprio del viaggio invece per vacanza e non del commuterismo quotidiano vuol dire avere la possibilità di organizzare uno scambio treno-bici che ha un valore anche per l'efficacia dello spostamento.